Governo slovacco nella tempesta, il primo ministro Igor Matovic ha presentato le sue dimissioni. Il motivo è stato l'acquisto di ingenti quantitativi del vaccino Sputnik all'insaputa dai partner di coalizione. La Slovacchia è la seconda nazione dell'Unione, dopo l'Ungheria, ad acquistare il preparato russo che deve ancora essere ufficialmente approvato dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Col senno di poi, dice questo analista, sembra che lo scopo dell'acquisto del vaccino Sputnik fosse piuttosto quello di rafforzare la posizione del Premier nei confronti dei partner di coalizione, presentandosi come il salvatore della nazione, che è ancora quella con i più alti tassi di mortalità. E anche la richiesta di dimissioni dei suoi critici sottolinea il fatto che ora è diventata una questione personale. La Slovacchia è il terzo paese europeo per numero di decessi da coronavirus. L'80% del corpo elettorale sembra chiedere un cambio politico, tenibile solo con le dimissioni di Matovic. Ma la coalizione quadripartita al governo rischia di spaldarsi per la mancanza di un nome che possa unificare le varie anime dell'esecutivo, in uno dei momenti più difficili per la nazione.